Salone del Risparmio 2018, siamo con Nevia Gregorini, responsabile prodotti quotati di BNP Paribas Corporate Institutional Banking. Dottoressa Gregorini, qui al Salone del Risparmio siete presenti, avete organizzato un vostro evento, di quali temi avete trattato? Il tema dell'incontro era rendimenti periodici, minusvalenze e gestione della copertura. Uno dei temi in cui sono maggiormente interessati i consulenti anche qui in fiera è quello dei certificati che pagano di coupon. Infatti sempre più consulenti sono alla ricerca della sostituzione di una parte del portafoglio obbligazionario che ha ormai i rendimenti ai minimi con dei prodotti alternativi. Con il rendimento del BTP decennale all'1,9 sono sempre più la ricerca di alternative che magari abbiano anche un rischio azionario ma calibrato, contenuto. I certificati di investimento offrono in effetti questa possibilità. Tendenzialmente scelgono prodotti che hanno delle barriere molto profonde, addirittura fino al 50% rispetto al valore iniziale e pagano dei coupon che possono essere semestrali o annuali. La cosa interessante è che anche tutti i redditi derivanti dai certificati possono essere utilizzati a compensazione delle minusvalenze. Quindi se un cliente ha uno zanetto fiscale derivante ad esempio da perite su azioni oppure minusvalenze da fondi può compensarle con i redditi dei certificati. I certificati di investimento sono una categoria di prodotti che negli ultimi anni ha attirato sempre maggiore attenzione da parte del mondo dei consulenti finanziari. Possiamo spiegare un po' quale ruolo possono svolgere nel portafoglio che i financial advisor gestiscono per conto dei loro clienti. Allora credo che la MIFI 2 in qualche modo stia portando maggiore interesse verso il mondo dei certificati, in particolare i certificati quotati che sono accessibili tramite qualunque intermediario basta semplicemente conoscere il codice ISIN. Come utilizzarli all'interno del portafoglio? La cosa interessante è che esistono tanti certificati con rapporto rischio rendimento diverso e quindi è possibile utilizzarli alcuni per sostituzione della parte azionaria se ci si aspetta appunto magari delle possibili correzioni, altre per sostituzione della parte obbligazionari, altre ancora proprio a copertura del portafoglio. Ci sono dei certificati a leva chiamati mini future che ad esempio i consulenti finanziari utilizzano proprio per coprire il portafoglio. Faccio un esempio, prima delle elezioni di Trump piuttosto che prima di un momento di grande incertezza, le votazioni per la Brexit, molti consulenti ci sono venuti a chiedere cosa faccio, quali scelte ho, in fin dei conti i miei clienti tendenzialmente hanno un portafoglio long only, non è molto pratico chiedere a tutti di disinvestire per una settimana e stare liquidi. Ecco, i mini future certificate danno proprio la possibilità ai consulenti di, in maniera semplice, acquistare dei prodotti sul mercato che con un benchmark sull'Erostock, sul Fuzzimibu o sull'SMP500 permettono di coprire il portafoglio almeno per il periodo critico e di, diciamo, dormire sonni tranquilli. Sul nostro sito, Investimenti Benpeparibas, esiste proprio un calcolatore della copertura. Grazie dottoressa Gregorini. Grazie a voi.